Musica Ciao a tutti ragazzi sono Sibetix In questo nuovo video sono qui a giocare a Hellsward in compagnia di Ciao Ciao pallina Ciao Stavamo seduti sulle dune tutte e due La luna viura Perché trema la tua luna Allora cosa dobbiamo fare ragazzi Cosa dobbiamo fare Dicci un po' che è successo Hanno fatto un evento tutto colorato Che cos'è che hanno fatto Un evento tutto colorato Un evento tutto colorato Eh ma si può fare il dungeon da solo Non in compagnia perché Non si può fare in due No non si può fare in due Perché Quindi io vado a fare il dungeon E vado in qui Una sfida a chi ne uccide di più Vai vai cos'è questo dungeon Cos'è raccontaci un po' amore Allora com'è che si chiama Robolandia Robolandia Deve uccidere tutti i mostri che ti arrivano davanti Più mostri uccidi Più monete Ecco raccogli monete In queste monete che cosa si fa? Si può scambiare da Aaron Per robe strane Allora devo tipo disattivare i suoni Ecco qua Ecco Perché sono troppo alto il volume Devo abbassarlo Ok Che cos'è che si può cambiare? Che cosa si può fare? Si può scambiare roba da Aaron Tipo? Non me lo ricordo Come non me lo ricordo Tutti i mostri Sì mi sono venuti incazzare Vedete come urla Madonna Sì ma andiamo Ecco Ma vieni Uccidiamoli tutti Oh e dai che palle Non riesco più a uccidere Aiuto Ecco Dove stanno gli altri qua? Eccoli qua E' proprio Robo Ma sarebbe In pratica Castello di Robo sarebbe Cioè Però è figo Robo Landi No mi ha congelato quel bastardo Minchia non sto uccidendo proprio niente Non sto uccidendo Quante sei? Eh ancora 20 Io ho 41 Vedete a te No non sto riuscendo Ecco No 29 mostri uccisi Perché io ho mostri skill di massa? Ricorda Eh no io invece non sto riuscendo Allora prendo la Hyper Ecco Ne uccisi Tipo a 41 sono arrivato Ok Sì però non li trovo Non ci stanno a me Non escono E cazzo A me pur laggando escono Sì ma tu cazzo Urli Non laghi urli È fastidioso Ah per palline della cresci potere Pinocio Wow Mamma mia che figaggine Anche queste izzi e lizzi qua Che devono morire Bastarde Quanti secondi stai? 23 Ah ecco buono No che palle 8 secondi Dai Oh 55 dai che sono morti Dai Spero di non morire adesso Io un secondo Ok è finito Finito? Sì Tutti i morti Quelli che stavano 74 mostri eliminati Vai Tutti colorati così Tipo lo posso rifare un'altra volta Ma è bellissimo sto dancio Perché è una godura Inoltre è usciti tutti Oh Minchia Che cosa? Ti ho strabattuto Perché? 109 Che culo Bastardo No ma me la vedo un po' Allora Che cosa dobbiamo fare? Oh un sacchetto col monete Sono arrivato a Droppato Ah? Droppato? Sì 80 monete di robo Ehi sei che bravo Eh ma con questo in modo dovrei scambiare Però tipo aspetto un attimo Quando arrivi accendito Voglio cambiare le skill perché Devo caricare altre skill E il problema E appunto il fatto Che devo avere tanta mana Per caricare tutte ste skill Quindi cazzo Cazzo Dovrei Minchia Minchia cosa? 110 moneteo Che culo Cos'è questo? Non posso scambiare Trionfro pruento Giga 3 Non fare casino No è caduta la ciabatta La ciabatta è caduta? E tu sei caduta? No Mi hai buscato ieri Ah ma devo dire Racconta 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 Non so C'è un letto Come cazzo fai? Eh non dormi veglio Senti c'è un letto E sono rimbalzato oggi Come cazzo fai? Non tu vuoi Il mio letto adesso è rimbalzato elastico Eh racconta perché perché Siamo prima che mi dico di là Dopo tipo Non so quanti anni Ho cambiato il materasso 12 anni Mamma mia Non di più Voglio cambiare Cioè quel materasso ce l'avevo Da quando ho capito la culla Cioè da quando mi hanno rotto la culla Ti hanno rotto la culla? Tolto Oddio cazzera Non sapevo che fosse così Espreso una testa Ma che merda Pensavo qualcosa di meglio No invece va a cagare Che cazzo di Gli schi di merda Mi sto andando a scambiare E cos'è che stai facendo? Sto andando a scambiare Sono appena morto Tipo what the fuck Perché sono morto? Oddio mio Non sto capendo niente Ancora tre mostri ucciso 12 13 14 Avevamo fatto l'hyper Tipo per ucciderli Non sto capendo niente Allora tipo K Eh no Questa l'ho persa un bel po' Allora dove è la mia skill? Eccola qua Cioè no no Cazzo Lasciamo le skill che avevo Tutto per ascoltarti Eh ma le skill di massa Che merda Ma perché io le skill di massa Dove che no? No ma che schifo Cioè me lo pure trasformate Quale il fatto cazzo? Che scemo Che scemo un cazzo Cioè Dai Palle Ecco Tre palline Da cresciputere carico Ora dobbiamo uccidere di tutti Vai 20 mostri Cioè no Che schifo Dove stanno gli altri? Ho letto random Con l'elemento regolare avatar Colore 1 Che cos'è? Ho letto random Con l'elemento regolare per avatar Colore 1 E che cosa fa in pratica? Non lo so Mi esce un accessorio Un elemento avatar Ah ma è casuale? Sì Sì Cos'è uscito? Buffo le flotte operativa mobile Mamma mia le muffole ragazzi Le muffole sono tutto Spacchio di muffole che mi perseguitano Ah? Spacchio di muffole che mi perseguitano Sai che sono fighe le muffole eh? E poi non si vedono Io ti comprei le muffole una volta Shoppe le muffole per te Cosa ce le ho? Ce le ancora con le muffole di merda lì? Certo E dove ce le ho? Certo come è Non so Non ne vi Ah more avevo soltanto il set della volpe di sopra Ma ce l'ho me Eh sì sì Cos'è tanto le copre Mo' mi doveva concere l'acqua di bastardo Adesso Ne faccio un altro Eh infatti è bello Ah muoiono tutti Putevo un po' Cioè alla fine 85 mostri minati Non faccio di più adesso eh Troppo poco Cioè vi dice certi che fanno Boom 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 110 No devo trovare una skill che veramente faccia male Allora Ah infatti ho preso grado A Perché mi sono pure fermato cioè Esci dai Siamo di supernova? Sì L'amo di supernova vai Eh K io vedo che sta Qualche skill fida Che tagli Che uccida Non lo so L'ama del pepessente qua L'ama del pepessente Il sangue dell'avversario presente Con un colpo rapido acquisisce il sangue dell'avversario presente Nei vicinanzi in questo modo imprime una runa di sangue sulla tua spada Non l'ho mai provata Qua se invece Con un movimento fulmino scivola in avanti Prendisci la spada E fai pezzi di avversari Va Mi fido di questa skill Va Non l'ho mai provata molte skill Cioè no l'ho provata però Mi sono proprio dimenticato Dopo il revampo tipo Sì Allora qua c'è le orb Ho le orb Eh ma le carte mostro Cioè Oh questo per la mana Mamma mia Vai faccio un'ultima volta Un'altra volta Non l'ultima No perché tipo Poi devo andare a scambiare Devo vedere che cosa mi danno E palle che mi congelano Sì ma non gridare Gridano in volte Mi aspettavo meglio Questo fendente sibilante Ma fan puro No mo devo cambiare di nuovo Skill Luffa Lama estrema Quanti mostri 15 mostri vai Si uccisi Fanculo Oddio che è quelli mostri strani Amo No Ma tu non lo stai facendo più Che che lo stai facendo Ne provo Ne ho uccisi troppo pochi adesso No 24 Bello Goti Bello godire Oh basta Che è No che mi avevano incastrato Si ma non gridare Mi sbonni le orecchie Ecco Aspettate che qua la gente avvia Intanto Giuti da steam E mi arriva la notifica Ecco qua No cazzo Si ma che brutta skill Che c'ho Madonna Non ne cambio più le skill Basta Ne ho uccisi io 85 Io te ne assisto Per un'ottima quattro secondi Ecco Uomo Tutti morti Vai Si ma non stanno uscendo più a me Che cazzo Non stanno sopra Stanno sopra Infatti Bellissimo Fendente similante Però Lo devi caricare Quando stanno tutti insieme La devi usare Vai Vai Può Tutti morti Vai 46 No Provo Chi posso facendo Ora cambiamo Cosa Al posto di Mattella a vapore E cosa usi O metto Ghigliottina Si ma tu C'è cosa Come si chiama Quella che risucchia Tutti Supernova Supernova E' con quale risultitutti Tutti Ho anche Le cose Vi chiamo Del mezzuridere E' appunto Invece no Io non so Quali A me Singularmente E' l'incadenamento Del destino Che palle E' tornato Si è morto Il cazzo Ci ha usato 103 mostri Wow Si però Mola devo cambiare La skill Mi posso Il teledrasporto Mette il cacciavise L'alposto Del martello Vovare Me Metto Di skill Ah ecco Ah no 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 Metto raggi di energie La volta buona Che provo tutte le skill Per bene Così No La potenzio puro Vai Ok 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 Vai Tanto C'ho almeno Quei libretti Di merda Che devo Va Faccio l'ultima volta C'è qualcosa Ah no Devo far vedere Come è Da scambiare Soli di merda Che schifo Come fai ad appiccicarti Cos'è Minchia Giga Drive Dai che cosa Ma fa Ah c'è il buff Giga Drive Ok Quindi non solo fa danno Ma c'è anche un buff Su ok Di 26 secondi Che tipo Non la posso usare Perché non sa nessuno Che schifo E madonna Perché Non c'è gente Amore Ci sei tu invece Sì sì Ci sono Ecco Ma è che ha fatto una largata Ah ok Quindi quanti cazzi Di buff che c'ho I buff C'ho amore No i buff Sì Ma ci non c'ho baffetti Si è appazzito Che c'ho baffetti Sì Te li devi togli Perché Me li devo togli I baffetti Perché No Sì No Sono belli i baffetti Ma a me non mi piace La barba Eh la barba è diversa Delle baffetti Come qua A me non piace Nell'emene i baffetti Che schifo Ma mi piace La peluria Nella faccia Ma come L'uomo deve essere peloso Ovunque Tra me che nella faccia Quelli mi non mi piace Ah quindi se io tipo Sono una scimmia Ovunque Non mi do a fastidio Ah ecco Così è Sì Sai che non faccio danni qua Cioè Ancora 58 mostre Ma perché non escono Non spawnono Dai Uoah Tutti morti Faccio di easy Come easy Easy Mi blocco Easy No easy Ti mando pure a me Ha fatto la minchia Ha rotto easy Madonna Gigadrive Ok Sì però Dei fare tutta l'animazione Con gigadrive Onda shock Pure queste altre Questa easy di merda Che non muore Col veleno Morite tutti Bastardi Avvelenati Stronti Amore Ci sei Eh non parli Cioè che cazzo No perché non capisco niente Come non capisci niente Non capisco niente Qua sono tutte cose Ah è uscito pure il robot M8 Qua Il boss è uscito 122 sono arrivati 103 122 Allora più vai avanti Più escono mostri forti Figo Wow Vabbè da È l'ora di chiudere qua Però devo Prima Andare a prendere Che cosa Scambiare Sì da chi è che devo scambiare quindi Parano Ah io c'ho 234 monete No Da Aranca devo andare Yes Aspetta che vado da Aranca Ok Scambia Oh Ma posso Tipo se c'ho più monete Non posso prendere più cose No Ci sono altre cose Da scambiare No Solo questa puttanata Ok Allora potrei tornare con l'evento regolare per avatar Con l'evento regolare per colore 2 Colore U Cos'è invece qua Elemento limitato Cos'ignifica regolare E tu cosa hai preso Limitato o regolare È random Amore Ah ecco Non più spazio inventario Pezzo di merda Dove eliminare una cosa da tutto Oh madonna Vai a vedere che mi aveva dato regolare Allora Aspetta Per regolare non deve essere come limitato Capi Io ce l'ho limitato Ma no no Sono tutti quanti limitati E ora mi ha dato un regolare però Allora vediamo cos'è Baule Starpe l'olita per il tempo libero Aspetta Oh di sopra flotta operativa Quanto dura 14 giorni Ah che bello Ah posso scambiare ancora Ok bello figo Ok E cosa mi hanno dato adesso Limitato Oddio Ho frotta operativa Ok Uh che cos'è una gonna Oddio Pantaloncine Bermuda C'ho Io Scarpino Scarpino l'olita Tipo è fighissimo così Il personaggio Ha fatto lo screen Che tipo dura mezz'ora E questo ancora va online Vabbè Dai amore Saluta Ciao Beh ragazzi per questo video è tutto Grazie per la visualizzazione Spero che il video vi sia piaciuto E Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 ciao